benvenuti bentornati e nel nuovo video è da tantissimo che non registro un video per youtube e noterete sicuramente qualcosa di diverso i capelli sono tornata castana perché il biondo era arrivata a un punto che non riuscivo più a gestirlo e venire i miei capelli super danneggiati quindi ho detto sai cosa torniamo come prima quindi questo è il mio colore naturale e i miei capelli si stanno riprendendo ma non siamo qui a parlare di capelli almeno per oggi voglio farvi vedere i miei prodotti preferiti del mese di ottobre anche se questo video è uscito più tardi lo so scusatemi però tempo mi manca il tempo è poi un periodo un po particolare quindi direi iniziare subito dalla parte pro skin care e ultimamente sto utilizzando per quanto riguarda il discorso detersione loro di vera lo spumone e l'olio denso allora tenete conto che io per quanto riguarda rimuovere tutto il trucco ho sempre utilizzato il burro stroccante di clinique lo amo e lo ricomprerei a vita però vi devo dire che anche lui mi sta mi sta piacendo quindi se cercato un'altra alternativa per come si dice alternare io lui ve lo consiglio mi lascia cioè vi scioglie tutto tutto c'è tutto anche il trucco quello più intenso carico quindi di che i classici smoky eyes toglie tutto e poi una volta risciacquato con acqua tiepida io faccio questo passaggio vado con lui con lo spumone se non mi cade e anche lui mi lascia poi la pelle super liscia cioè vi giuro da quando ho introdotto il discorso della doppia detersione vedo dei miglioramenti netti sulla mia pelle tenete conto che ora sono truccata ma qui ho sempre degli tipo sfoghi pelle molto secca discorso doppia detersione da quando l'ho scoperta non la mollo più e per quanto riguarda andare a idratare in profondità la mia pelle vado con lei costa un rene è la magic cream di sia carlotta costa un rene però vi giuro per il tipo di pelle estremamente secca e ora che si va poi verso l'inverno la mia paura più grande come tutti gli anni è quella che mi esce fuori il discorso dermatite in questi punti lei è l'unica anche se ci vado a mettere sia rioli eccetera che mi va a sistemare questa questa pellaccia diciamo pellaccia che si forma qua e questa l'ho praticamente c'è mangiata e volendo questa qui la possiamo riacquistare la ricarica per fare il refi infatti ci sto pensando mi sono dimenticata il discorso a detersione utilizzo anche lui che è il foam di casa shiseido anche lui schiuma schiuma insieme al take it off di take it off un attimo un vuoto di memoria ma penso sia proprio lui sicuro di clinique il borro struccante quindi anche lui come detergente lo consiglio passiamo ai make up allora ce l'ho sulla sedia quindi li vado a prendere come primer viso sto amando lui che è l'amore della mia vita fa sia da primer però va anche a illuminare il nostro incarnato così che quando andiamo applicare un fondotinta mi viene abbiamo una pelle super luminosa sapete il mio amore per la luminosità per l'illuminante quindi lui è uno dei miei best 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 e sicuramente lo ricomprerò quindi dal primer passiamo al fondotinta ed è lui il mio amato forever di dior nella correzione 1.5 questo però specifica avendo la pelle molto secca io infatti lui me la va a seccare ancora di più e quindi qui ovviamente una buona skin care sempre perché sennò si va mi va qui nelle pieghette ed è una cosa orribile però lui è ormai saranno tipo 8 anni e lo utilizzo e è lui è lui il fondotinta long lasting super coprente che quando ho da fare un trucco super carico per realizzare dei post oppure per per andare a lavorare eccetera utilizzo sempre lui perché mi deve rimanere su una faccia poi sempre discorso face lui ho scoperto gli stick per il contour in crema tesi conti che sempre amato quelli in polvere perché riuscivo a modularli meglio però una volta preso il via questi sono stop top top e questa nella correzione amber cioè vi faccio vedere il colore meraviglioso è bellissimo ed è quello che so indossando oggi anche lui promosso poi correttore allora all'inizio non mi ha fatto impazzire però poi dato che ho avuto questi sfughi qua mi ha mi ha salvato la vita che è il labor disway di too faced nella colorazione snow vi giuro questo leviga pialla copre la qualunque cercate un correttore super coprente provate lui io ho preso quello piccolino però vi giuro merita 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 anche come il primer occhi per andare poi a creare un makeup io lo consiglio poi dato che siamo in tema occhi occhi sopracciglia ci sono loro due i miei prodotti best lui è da lontano 2018 e la utilizzo è la eyebrow marker di kiko nella colorazione 02 vi giuro ne ho provate anche altri ma torno sempre su di lei perché mi piace mi piace l'effetto mi piace la resistenza che ha perché anche quando ora non è il caso adesso perché fa un po freddo però anche quando magari si va in piscina si va al mare eccetera volete solo le sopracciglia belle definite eccetera utilizzate lei io come ho amore per lei non ne ho per nessun altro e infatti quando arriverà il giorno che smetteranno di farla sarò in lutto perché sono una persona ossigenata dalle sopracciglia cioè ci tengo tantissimo quindi devono essere come come dico io non ho mai fatto il discorso del tatuaggio perché va trovata una persona brava quindi finché c'è lei me le faccio da sola e come fissante utilizzo questo mascara qui di bottega verde nella colorazione 02 castano anche lui è dal 2021 che lo utilizzo e mi sono sempre trovata bene poi passiamo al mascara lui è uno dei miei best che ricomprerò fino alla fine lui non all'inizio non gli avrei dato niente proprio niente 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 però vi giuro che mi fa delle ciglia spaziali questo è lo scovolino ma una passata fum cioè avete le ali al posto delle delle ciglia e merita 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 avevo provato anche quello di Too Faced il sex quella cosa per farvi capire tanto zannato ma onestamente io non lo ricomprerei rumori di sottofondo ma tutto normale non lo ricomprerei perché non mi è piaciuto tanto zannato ma non mi dice poi passiamo alle labbra allora questo è stato un prodotto che ho visto su tiktok che sta andato molto virale e quindi mi sono decisa di prenderlo cioè di cosa parliamo? cioè ma di cosa parliamo? ok? un gloss che butta su un lilla che va anche a leggermente rimpolparvi le labbra non si vedrà il colore però no forse sì qualcosa sì è meraviglioso applicato anche su un rossetto nude oppure un rossetto bordeaux vi va a fare quell'effetto gloss effetto specchio che a me fa impazzire ultimamente sono proprio flippata su questo effetto quindi lui è l'amore della mia vita infatti ce l'ho sempre in borsetta anche per idratare le labbra passando invece al discorso tinta loro le vinili di Maybelline mi piacciono davvero tanto anche perché sono le tinte più resistenti che io abbia mai provato e ce l'ho anche diverse colorazioni però in questo periodo sto utilizzando lei che è molto nude tranquilla e vi faccio vedere il colore ora notate che l'ho finita praticamente però è questo rosina che butta su un mattoncino caldo ed è bellissimo come colore da un estremo all'altro l'ho ritrovata so perfettamente che non andrebbero utilizzati i prodotti scaduti ma per chi è amante del makeup sa ho ritrovato lei che è la linea di Mulac la linea Kali ed è Genina Bottle io vi giuro l'avevo rimosso questa tinta però poi l'ho ritrovata ho detto no 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 aspetta lei è meravigliosa meravigliosa perché ha questo color fucsia ora non si vede perché è letteralmente terminata ha questo color fucsia però quando voi fate questo movimento con le labbra sfrigiona tutti questi glitter che chi sono io per nomare glitter se no non sceglievo questo nome e sarà che sono stata influenzata con la linea di Natale di Dior e anche qualcosa di Natalizio di Kiko perché sono ritornate questi effetti super wow infatti ho l'amore per i glitter quindi la sto utilizzando fino alla fine infatti ce n'è ancora un pochino e la voglio completamente terminare io penso di avervi fatto vedere tutti i miei prodotti preferiti del periodo mi sembra sì perché non ce ne ho più a giro quindi il video termina qui vorrei tornare a fare altri video chiaccherici devo capire un attimino il format che magari fare quindi qui chiedo aiuto a voi anche giù nei commenti fatemi sapere che video vi piacerebbe vedere ne ho in mente alcuni però tenete conto che devo avere o la mattinata libera o un pomeriggio libero per realizzare perché sembra semplice stare davanti a un fotocamera un iphone eccetera ma in post produzione ve lo raccomando perché ci tengo veramente tanto che i video vengono belli bene quindi capitami io penso di avervi detto tutto mi raccomando se non siete iscritti al canale cosa dovete fare? seguirmi mi farebbe tanto 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 piacere giù trovate anche gli altri miei social dove potete guardare i miei contenuti e mi farebbe tanto tanto piacere io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao